Parliamo di enti di promozione sportiva, di mobilità sostenibile, di infrastrutture legate proprio all'attività motoria, delle società sportive di fronte alla guerra e agli aumenti peraltro non giustificabili sul piano del mercato che subisce chi gestisce un impianto sportivo. Gli enti di promozione sportiva hanno poi incentrato l'attenzione sul bike sharing, cioè sulle bici monopattini, cioè mezzi alternative e comunque a livello ambientale migliori della carburante che respiriamo oramai da tanti anni. In servizio della collega Ivano Maiorella. Un saluto Max dall'impianto Fulvio Bernardini di Roma, un saluto a te e ai nostri telespettatori e alla tua splendida redazione. Siamo qui all'impianto Fulvio Bernardini di Roma per presentare un nuovissimo progetto. Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, di che cosa si tratta? Una giornata veramente importante per la WISP dopo la presentazione nazionale dello scorso giugno e le conferenze stampa territoriali del progetto nazionale Sport per tutti, finanziato e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Oggi siamo appunto al Fulvio Bernardini di Roma, uno degli impianti sportivi più grandi di Roma Capitale, gestito dal Comitato WISP di Roma attraverso la società Work in Progress per delle azioni veramente particolari nell'ambito del progetto. Il tema è la sostenibilità ambientale, il tema è la mobilità sostenibile. Stiamo dimostrando, stiamo lavorando con la società Simurg per un'analisi di come gli utenti di questo impianto utilizzano il mezzo di trasporto, il proprio mezzo di trasporto per arrivare all'impianto, quindi tra chi usa il mezzo privato, l'automobile, piuttosto che il motociclo e chi usa ovviamente percentuali ancora ridotte, il mezzo pubblico, la bicicletta per dimostrare qualcosa di estremamente importante per il futuro dell'impiantistica, ovviamente non solo del Fulvio Bernardini ma di tutte le associazioni e società sportive e quantomeno della rete associativa WISP. Ecco, in questo momento siamo a Roma ma un po' in tutta Italia il progetto Sport per Tutti sta mettendo in movimento decine di comitati WISP e di persone. Che cosa sta succedendo in tutta Italia, Tiziano Pesce? Proprio così, un progetto che si declina in 15 comitati regionali sui territori di 26 comitati territoriali per dimostrare come lo sport, lo sport sociale, lo sport per tutti possa essere veramente uno strumento di ripartenza. Ivano giustamente sottolineavi l'aspetto del rimettere in movimento dopo l'emergenza sanitaria in un periodo ovviamente purtroppo ancora complicato perché al Covid si sono susseguite altre emergenze, l'emergenza ovviamente ambientale ma l'emergenza economica, l'emergenza del conflitto in Ucraina e sappiamo bene quanto le associazioni e le società sportive vivano questi momenti con grandi sacrifici. Pensiamo ai rincari dell'energia, ai rincari bollette. Ecco, c'è da mettere in evidenza come lo sport possa essere appunto un motore di ripartenza ma soprattutto sottolineando come lo sport possa essere un riattivatore, come le politiche pubbliche debbano guardare lo sport proprio come un mezzo per la promozione, la prevenzione della salute ma anche come un mezzo proprio di incentivo alla sostenibilità, come dicevo prima, ambientale, economica e sociale soprattutto. E per quanto riguarda WISP Roma ce la sta mettendo tutta per dar vita a questo progetto e rimettere in moto lo sport di base. Simone Menichetti è il presidente della WISP di Roma. Entriamo un po' più nel merito. Ecco, questo progetto, adesso abbiamo anche una simulazione di quello che verrà. Come vi vedrà protagonisti Simone Menichetti? Sì, ci vedrà protagonisti in diversi modi. Il primo, più importante, è l'utilizzo della mobilità sostenibile per recarsi qui al Fulvio Prima Linea a fare sport. Qui vediamo una simulazione con un utente che arriva al nostro impianto in bici. Tramite l'applicazione dedicata del progetto può confermare il chilometraggio fatto in bicicletta per giungere qui all'impianto e ottenere al raggiungimento di vari obiettivi delle premialità durante il corso della stagione sportiva. Questo è uno dei metodi, ma avremo anche l'incentivo per il carpooling con dei parcheggi segnati a terra e, d'accordo con le amministrazioni, stiamo cercando di allargare anche al quartiere di Pietralata lo sharing delle bici e dei monopattini, appunto, per permettere a tutti di utilizzare mobilità sostenibile per venire a fare sport. Ecco, a proposito delle amministrazioni, possiamo dire che questo è un progetto di sperimentazione, di amministrazione condivisa, perché avete mobilitato sul territorio varie competenze. Abbiamo parlato di mobilità, infrastrutture e sport. Sì, è un tipico esempio di coprogettazione con le amministrazioni, ovviamente per riuscire nel nostro intento che è quello di invertire un paradigma, in questo momento la maggior parte delle persone si reca a fare sport in macchina, dobbiamo cambiare questa abitudine, abbiamo per forza necessità della collaborazione delle istituzioni, quindi nel nostro caso dell'amministrazione comunale, questo è un impianto comunale, ovviamente gestito da WISP, ma soprattutto del municipio, non solo dal punto di vista sportivo, quindi con l'assessore allo sport, ma anche con chi si occupa di ambiente, perché poi questa tematica ricade ovviamente nella sostenibilità ambientale. Grazie, grazie Tiziano Pesce, grazie Simone Menichetti, ringrazio della collaborazione per questo collegamento. Sergio Pannocchia, Elena Fiorani e Francesca Spanò, ti restituisco la linea, Max.